L'aeroporto Verdi entra nel prestigioso club degli scali di interesse nazionale. Per Palma è un successo di straordinaria importanza. Dopo l'arrivo della concessione ventennale alla società di gestione, l'inserimento dello scalo nel piano nazionale aeroporti del ministro Maurizio Lupi apre finalmente un futuro concreto per i Verdi, come hanno sottolineato questa mattina il sindaco Pizzarotti, il presidente della provincia Bernazzoli e il presidente della Sogeap Guido Dallarosa Prati. Sblocca una situazione che può aprire Palma a investitori da tutta Europa, da tutto il mondo, perché non italiani, però sblocca una situazione che, insomma, noi abbiamo sempre detto l'aeroporto all'interno dell'area vasta su cui bisogna guardare è una struttura strategica, non è solamente per i voli passeggeri, può essere molto per i voli business, per i voli commerciali, comunque insomma da qua è un primo passo per il rilancio. Io penso sia successo della squadra e del territorio, io ho un grande merito al presidente, dalla Rosa Prati, che ha tirato tutto questo gruppo, sicuramente è eterogeneo, ma ci ha creduto fino in fondo e ha tutto il gruppo, quindi quando si fa squadra, si dice sempre, i risultati arrivano. Quindi penso che questa sia la cosa più bella, la vittoria di tutti. Essere in connessione col mondo è un valore aggiunto e in più può essere in questo senso valorizzato un'intera area vasta di cui Palma, da questo punto di vista, offre un punto di appoggio importante. Il sogno del cassetto è quello che questa città, questo territorio, si unisca agli altri territori confinanti, come Reggio, Cremona, Mantova, Piacenza e anche l'est della Liguria, per creare un'area vasta in cui perno possano essere le città importanti di Palma e di Reggio Emilia che hanno due caratteristiche importantissime, una la stazione a Medio Padana e l'altro l'aeroporto internazionale di Palma. Questo è il sogno su cui chiedo ai territori, alle istituzioni, ai politici di lavorare, di iniziare da subito a lavorare su questo progetto perché questo è il futuro e questa è la nostra ricchezza. Ora Leonardo Rigamonti è con la madre, l'americana Lura Calder. Dopo il rientro a Palma di padre e figlio, l'attenzione sulla vicenda del bimbo conteso rimane altissima. Mercoledì prossimo il giudice dovrà assumere una decisione non facile. La madre ha chiesto l'affido esclusivo di Leo.